Marco sta pensando di acquistare un'automobile nuova, ma i suoi risparmi non bastano. Ha sentito però in televisione diverse pubblicità parlare di finanziamenti, ma vorrebbe saperne di più. Sto pensando di acquistare una nuova automobile, ma avrò bisogno di un finanziamento. Puoi aiutarmi a capire come fare? Se vuoi chiedere un finanziamento, sicuramente ti imbatterai nel TAN e nel TAEG. Il primo ti fornisce un indicatore di tasso di interesse applicato per il calcolo delle rate su base annuale, ma non tiene conto delle spese o delle tasse, che sono invece considerate nel TAEG, che ti permette quindi di capire quale sarà il tasso effettivo che verrà applicato al finanziamento. In questo modo potrai quindi confrontare diversi piani di finanziamento che ti saranno proposti. Mi sembra tutto molto complicato. Un po', ma qui ti viene incontro la normativa sul credito a consumo. Non devi calcolarti il TAN e il TAEG. Essi, infatti, devono essere riportati sia sul contratto che su qualunque pubblicità in merito alle condizioni di finanziamento. Puoi essere più specifico. A cosa ti riferisci quando parli di credito al consumo? Si tratta di finanziamenti erogati da banche o da altre società dette finanziarie, di cui beneficiano persone fisiche per finalità diverse da quelle che sono le loro principali attività lavorative e imprenditoriali. Secondo la legge, il credito al consumo riguarda prestiti compresi fra 150 euro e 75 mila euro. Il tuo caso, cioè l'acquisto di un'automobile, ricade perfettamente in quest'ambito. Mi puoi dire qualcosa di più? Il credito al consumo fa riferimento a diverse forme di prestito. Il prestito personale è il classico finanziamento per ottenere liquidità per finalità generiche dietro il pagamento di un interesse sotto forma di rate che rimborsano anche il capitale. Puoi farlo online, presso una banca o presso una società finanziaria, cioè una società differente da una banca ma autorizzata da Banca d'Italia a concedere finanziamenti. Il prestito finalizzato, invece, prevede l'erogazione di una somma di denaro per l'acquisto di un determinato bene o servizio. Il classico esempio è quello del prestito in negozio per acquistare un elettrodomestico oppure l'automobile. Quando ti recherai da un concessionario, potrai scegliere l'automobile e decidere se pagarla a rate, come nel tuo caso, oppure no. Se decidi di farlo, dopo la tua richiesta di finanziamento, se accettata, la finanziaria erogherà il capitale direttamente al concessionario, mentre in seguito tu restituirai a rate il prestito alla finanziaria. Solitamente tutti i concessionari, così come molti negozi, hanno accordi con società finanziarie. Quando ti viene fatta la proposta, ti specificano il tasso secondo cui si calcolano le rate, eventuali costi e gli indicatori TAN e TAEG. Adesso mi è tutto più chiaro. Cambiando argomento, vedo spesso in televisione la pubblicità di carte di credito revolving. Sono anche loro una forma di credito a consumo? Sì, il credito revolving è in generale abbinato a una carta di credito, che, se usata per pagare un determinato bene o servizio, attiva un finanziamento di tipo revolving. Revolving significa rotatorio. In pratica c'è una linea di credito associata alla carta. Hai quindi la possibilità di prendere a prestito fino a un certo ammontare, rispettando però i limiti di disponibilità della carta, in poche parole, non è una modalità di credito percorribile se vuoi comprarti un'automobile. Ma come funziona? Nel caso tu effetti un pagamento tramite la carta, la linea di credito si riduce per tale ammontare, ma immediatamente si attiva un piano di rimborso che tramite rate mensili ti permette di restituire l'ammontare preso a prestito e ricostituisce la linea di credito che torna essere disponibili per nuovo utilizzo. In pratica, col credito revolving si attivano piani di pagamento in corrispondenza dell'utilizzo della carta. Le somme prese a prestito vengono ripagate attraverso una rata mensile per periodi di tempo che possono essere anche molto lunghi. Capisco che ci siano diverse opportunità. Ne hai in mente altre che secondo te dovrei conoscere? Sì, la cessione del quinto, della pensione o dello stipendio. Si tratta di forme di prestito disponibili per chi ha un cedolino dello stipendio o una pensione. Si chiama cessione del quinto perché il finanziamento non può avere una rata mensile superiore a un quinto dello stipendio o della pensione netta. In generale, questa tipologia di credito ha dei costi più elevati di altri prestiti, soprattutto a causa dei costi accessori. Intermediazione, gestione, assicurazione. Hai parlato di costi accessori. Mi fai un esempio per capire cosa sono? E sono tutti compresi nel TAEG. Un esempio di costi accessori sono le polizze assicurative suggerite al cliente per erogare il prestito o erogarlo a condizioni più vantaggiose. Queste polizze si attivano qualora tu non riesca a pagare una o più rate a causa di motivi particolari, quali ad esempio infortuni o licenziamento. Il costo di queste polizze va nel TAEG solo qualora siano obbligatorie. Nel caso ti venisse proposta, informati sempre sui costi e chiedi se questi sono incorporati nel TAEG oppure no. Spesso la risposta è negativa, perché sono pochi i casi in cui queste polizze sono obbligatorie. Perfetto, starò attento. Prima dicevi che il TAN e il TAEG devono essere riportati sul contratto. Ma quali sono i miei diritti? Ci sono delle norme specifiche a tua tutela se usufruirai di un finanziamento di credito al consumo. Se cerchi un prestito hai diritto a ottenere prima della firma il modulo SECCI Standard European Consumer Credit Information, ovvero il modulo informativo standardizzato e personalizzato che riporta tutti gli elementi di costo, incluso il TAEG, e sintetizza i diritti del cliente. Non firmare mai alla cieca, prenditi il tempo che ti serve per leggere il contratto e ricorda che hai diritto di portarlo a casa per leggerlo con attenzione e anche una volta che hai firmato il contratto hai ancora tempo, 14 giorni, per ripensarci. In tal caso puoi recedere dal contratto pagando solo le spese e gli interessi dovuti senza alcuna penalità. Inoltre puoi comunque sempre estinguere anticipatamente il prestito, per intero o in parte. Prima di sottoscrivere il contratto controlla sempre quanto ti costa tale opportunità. Sotto i 10.000 euro non si paga nulla, sopra al massimo l'1% del capitale residuo. Bene, mi sento più tranquillo. Ma come faccio a capire se il tasso richiesto mi è esagerato? Devi guardare il TAEG. Valuta le diverse proposte paragonando il TAEG. Dal confronto dovresti capire quali sono le proposte più vantaggiose. Ma che forma di tutela ho? In primo luogo, come abbiamo già detto, il TAEG deve essere riportato sul contratto e deve tenere conto di tutti i costi, spese e tasse. Così non avrai sorprese. Una seconda tutela è data dalla legge contro l'usura. Dal 2006 il Ministero dell'Economia su Indicazione di Banca d'Italia pubblica ogni trimestre i tassi medi rispetto ai tassi praticati dagli operatori nel trimestre precedente per alcune tipologie di operazioni indicate da Banca d'Italia ai sensi della legge sull'usura. Questi tassi medi vengono poi usati per determinare i tassi soglia al di sopra dei quali un tasso è considerato usuraio e quindi illegale. La procedura per il calcolo di tale tasso soglia, a partire dai tassi medi, è definita per legge. Ad esempio, la differenza fra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Il tasso medio è molto simile al TAEG, anche se il primo è calcolato senza tener conto, ad esempio, delle imposte delle tasse. È però possibile confrontare il TAEG con il tasso soglia per l'usura come primo passo per capire se il tasso che una finanziaria ti sta applicando può essere considerato un tasso usuraio. Se poi pensi che ti stiano applicando un tasso usuraio, per prima cosa confronta il tuo tasso con il tasso soglia anche online, attraverso i siti dell'associazione dei consumatori, ad esempio. Se il tasso è effettivamente usuraio, è allora tuo diritto sporgere denuncia. L'usura è un reato perseguito dalla legge. Perfetto. Grazie mille.